Bentornati su MyFootballJersey, oggi vediamo la prima maglia dell'Australia in versione FUN, la maglia utilizzata durante gli ultimi mondiali in Qatar. La maglia da calcio casalinga Nike Australia 2022 World Cup è prevalentemente dorata con loghi verdi. Retro del collo, polsini delle maniche e spacchetti laterali sono di colore verde, una maglia semplice ed elegante allo stesso tempo. Pantaloncini verdi e calcettoni bianchi completano il kit casalingo della Coppa del Mondo Australia 2022. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al 100%, ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica. Un ulteriore passo di Nike verso una produzione più sostenibile e attenta all'ambiente. La maglia è fatta sicuramente molto bene, con tutte le cuciture cose giuste, una vestibilità morbida, tessuti confortevoli. Nella mia classifica però prende solo tre stelle, non mi ha entusiasmato come abbinamento ai colori. Poi magari mi direte voi cosa ne pensate. Il costo è sicuramente bassissimo, come vedete qui sopra, peraltro per una maglia fatta molto bene, ma con dei tempi di spedizione anche molto veloci. Questa potrebbe ordinare la maglia. Quindi a questo punto non vi resta che cliccare sul link e andare a vedere sul sito queste e altre bellissime maglie. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN.